Innovazione, eccellenza tecnologica, qualità dell'assistenza al cliente. Dal 1972, Zuani progetta e realizza utensili di precisione per la produzione di infissi e mobili e per qualsiasi tipo di lavorazione del legno, sia di serie che personalizzata. L'obiettivo della soddisfazione del cliente coinvolge tutti gli aspetti della vita aziendale. Le specifiche richieste di ogni azienda sono indirizzate all'ufficio tecnico Zuani, chiamato a recepirne le problematiche, razionalizzarle e tradurle in prodotti ad elevata qualità tecnologica. Zuani pone l'accento sulla ricerca di soluzioni innovative, sull'evoluzione delle linee di produzione e sull'utilizzo di nuovi materiali. Il sistema produttivo è totalmente automatizzato, a cominciare dalla progettazione, ottenuta con sistemi CAD, per passare alla produzione con sistemi CAM. I nuovi contenuti progettuali trovano quindi attuazione in un reparto produttivo che si avvale delle più avanzate tecnologie e di personale tecnico specializzato. Quest'insieme di elementi costituisce una precisa garanzia di competenza ed efficienza, cui si accompagna il continuo impegno di Zuani nei programmi di rinnovamento e perfezionamento della propria offerta. Quest'insieme di elementi costituisce un'evoluzione della propria offerta. Quest'insieme di elementi costituisce un'evoluzione della propria offerta. I severi controlli di qualità e i sistemi di collaudo, infine, garantiscono la performance degli utensili Zuani anche negli impieghi di maggiore precisione richiesti dalle più moderne macchine elettroniche e corrispondenti ai più selettivi parametri di sicurezza previsti dalla norma europea EN 847-1. Tutto ciò si traduce per il cliente in un aumento della qualità e della quantità di prodotto finale. La consegna dell'utensile chiavi in mano è però per Zuani solo l'inizio di una lunga collaborazione con il cliente, che si consolida nel tempo attraverso la fornitura di ricambi, la riaffilatura degli inserti e la consulenza su tutti gli aspetti tecnici legati all'utilizzo del prodotto. Ovunque operi la propria tecnologia, Zuani offre affidabilità, rapidità e continuità nel servizio di assistenza. In ogni momento, accedendo all'area riservata del sito internet aziendale, il cliente ha la possibilità di controllare lo stato d'avanzamento dei propri ordini e di richiedere i ricambi di prodotti acquistati. Un sistema di archiviazione informatizzato, che da oltre 20 anni registra e aggiorna qualsiasi tipo di variazione apportata agli utensili di ciascun cliente, garantisce a Zuani la capacità di fornire accessori sempre conformi alle richieste. La continuità di rapporto con il cliente e la garanzia di qualità di ogni utensile hanno dunque consolidato nel mercato mondiale il successo dei prodotti e dell'azienda Zuani, che nel 1998 ha ottenuto la certificazione ISO 9001. Ma ISO 9001 è solo un punto di partenza. Zuani continuerà la ricerca dell'eccellenza con un patrimonio tecnico davvero leader. Grazie per la visione! Grazie per la visione!